Una proposta di legge che è stata depositata dalla nostra consigliera Viviana Guarini, ex consigliera ormai. E poi nel frattempo la maggioranza, a firma del consigliere Sabino Zini, ha presentato una propria proposta di legge istitutiva della commissione d'inchiesta. Quindi abbiamo poi fatto un unico testo di legge, quindi condiviso da entrambe le parti, dall'opposizione e anche dalla maggioranza.